Bella a tutti raga e benvenuti in un nuovo video di Pokeshine Oggi è il primo aprile quindi ragazzi Buona e felice Pasqua a tutti Oggi andiamo ad aprire le ultime uova Con queste qui arrivo tipo a 27-28 uova che ho aperto quest'anno Sul canale che poi oggi Questo è un video che sto registrando stamattina presto Perché poi nella giornata tra parenti, amici e quant'altro Non avrei avuto tempo né di fare il video né di caricarlo Però lo volevo girare e caricare il primo aprile Per augurarvi quindi una felice e serena Pasqua a tutti E quest'oggi andremo ad aprire 5, e dico ben 5, uova Pokémon Allora le uova sono di 200 grammi luna Costano 5,50 euro quindi vabbè 5,60 euro luna Questo è il primo artwork che andremo ad aprire E' della Wittors E gli artwork in realtà sono 6 Però io ne ho presi 5 perché Per me esistono solo i numeri dispari Quindi I numeri pari non mi piacciono Quindi iniziamo Non so se ce la faccio tutti in una parte Se non ce la avessi fare o divido in due Ma comunque Andremo ad aprire 5 Penso di potercela fare Allora la carta di quest'anno è molto più bella degli altri anni Perché comunque non ci sono solo le Pokémon Ma ci sono disegnati anche i Pokémon Ecco qui Spero di non fare L'incetta di Rollet Si trova una marea di Rollet Ho visto Iniziamo ragazzi Dai Ecco il primo uovo La cioccolata la andremo ad assaggiare una sola volta Ovviamente Eccolo qui Buona E vai Sì I magneti Ah per la testa fa un bordello con la cioccolata Ok Primo regalo Eccolo qui Magnete 2D Con il bellissimo Pikachu Belli i magneti Preferisco i magneti al portachiave sinceramente Poi vediamo in basso all'artwork cosa troviamo Ora Andiamo ad aprire Quello con Questo artwork qui Ok Ho visto che oltre ai magneti E E E i portachiavi Vengono riciclato anche Il sacchetto portagiovolare o portachiali Dell'anno scorso Più la Pokéball Quella antistress Quella tipo squishy Andiamo qui Speriamo di non trovare ripetuti Dai 5 uova 5 uova Baffì Bellissimo L'altro magnete Dai E siamo a due magneti diversi Sono anche belli pesanti i magneti Poi La cioccolata Ok Poi puliamo per bene Adesso Passiamo al nostro mitico Ed unico Artwork Quello con Pikachu Eccolo qui Il sesto artwork ragazzi Non me lo ricordo Aspetta erano 6 Non ho presi 5 Il numero 4 Quello era l'altro Vabbè Ce ne faremo una ragione Insomma Non mi ne ho proprio più Ok Entriamo Con il terzo uovo 3 numero A me sembra più sentire Se non sbaglio Una catenella Quindi non vorrei che O forse il cioccolato Che si è rotto Ora vediamo No Un ripetuto No Eccolo qui Primo ripetuto Però sono contento Intanto non ho trovato Nessun Rollet E Nessun Portachiave Dai però Adesso ci può stare A trovare Rollet Perché comunque Se voglio trovare Tutte le sorprese Che ci sono Mi serve anche quella No? Come al solito Allora adesso Ok Arriva Apriamo questo Con Quest'altro Artwork OLE Eccolo qui Sta Avermo Buono Qui c'è la montagna di carte Che sto Clorata Ecco Clorata Tutta Infatti Ultime parole Famose Oh Ebbè Ragazzi Ovviamente Non poteva mancare Lui Il mitico Rollet Però come vi ho detto Per la collezione Ci sta dai Quindi ho trovato Tre magneti diversi Su quattro uova E non mi sta andando malissimo Ora se dovessi trovare Una Un magnete diverso Ho Una No la pokeball No perché ne ho 10.000 di pokeball Che si squisciano Il cioccolato Non ci sta più Sul tavolo Aspettate Perché devo fare Una Suddivisione del cioccolato Ultimo uovo E' andato un po' veloce Per farvelo tutti In un unico video Però dai I regali Che avete Sì per bene Questo è L'ultimo artwork Eccolo qui Vai Qui cade tutto Perché ormai Non ci sta più gente Poi recupereremo Tutta la fine del video Ultimo vetto Dai spero In un magnete diverso O Nella Nella sacca Quella Le piccolina E portocchiali O portacellulare Dai No E' un altro magnete O Portacchiali No Dai Tre pikachu Su Dai Ho trovato tre volte pikachu Role Role Forse Forse Non so se Magari c'era anche la Il magnete di ivy Forse Vopo comunque Va bene ragazzi Allora L'apertura Delle uova di pasqua Termina qui Per questa l'abbiamo finito Sul canale ovviamente Perché oggi poi In maggio quello che ci sarà Grazie a tutti per aver seguito Questa serie di Loa di Pasqua 2018 Ancora super auguri a tutti E buona Pasqua Bye raga